Ciao a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Allora, seconda puntata dedicata al montaggio della nostra spada laser, mentre nel video precedente avevamo cominciato a creare sulla breadboard il circuito con Arduino Nano e LED e il transistor amplificatore, adesso in questo video vedremo come andare a creare il corpo della nostra spada. Allora, siccome non mi andavate a aspettare sei anni per stamparla in 3D, ho deciso di fare un viaggio da Leroy a Merlène e andare a prendere un po' di pezzi di tubi, tubature di plastica che ho visto, perché diciamo, vedendo le forme e le varie misure, le varie cose, mi è venuto in mente qualcosa, per cui adesso vi faccio vedere come li vado, grosso modo, ad assemblare per andare a simulare quella che è l'impugnatura della nostra spada laser, così da mostrarvi, insomma, cosa ho pensato. Allora, come potete vedere, quelli che ho preso sono dei normalissimi tubi, tubature in plastica, questo a dire il vero l'ho un po' accorciato, era un pochino più lungo, ma l'ho semplicemente tagliato e carteggiato. Poi abbiamo questa imboccatura qui, abbiamo questa parte e abbiamo due guarnizioni. Allora, siccome io poi andrò a spostare tutto quello che avete visto nel video precedente, che, diciamo, sulla breadboard lo andrò a mettere su questo circuito, su questa millefori, ho verificato che qui dentro entra tranquillamente, c'è anche un discreto spazio in altezza. Per cui stavo pensando di andare ad assemblare la nostra spada in questo modo. Allora, così andiamo a rincastrare questo. offre anche una discreta resistenza, perché c'è la guarnizione, quindi teoricamente si potrebbe anche non incollare. Poi, diciamo, ci sono queste guarnizioni che, per abbellimento, diciamo, ho pensato di mettere così. Vediamo un pochetto, eh. Adesso come viene. Così. Poi pensavo di fare così, una roba del genere. Mettere un'altra guarnizione qui. O forse... Sì, no, va bene anche così. E in chiusura sotto ci possiamo mettere questo. E come potete vedere, viene una cosa carina, no? L'impugnatura mi sembra decente come spada laser. Ovviamente poi qui ci andrà il tubo, che adesso ho già ordinato su Aliexpress, ma ci saranno tempi lunghi per averlo. E quindi, una volta che mi arriverà il tubo, metterò quindi il tubo bianco qui, all'interno del quale metterò i led o una striscia led. Adesso vediamo cosa mi invento, perché stavo pensando che i led che ho usato nel video precedente probabilmente non sono a sufficienza, non bastano, meglio, bisognerebbe metterne di più per illuminare tutto il tubo, per cui forse è meglio una striscia. E chiaramente poi qui sotto dovremo andare a chiudere in qualche modo, ma quello lo vedremo all'ultimo, anche perché bisognerà prevedere un'uscita USB femmina per aggiornamenti futuri, magari anche del colore della spada. Ovviamente il tutto potrebbe essere colorato, stavo pensando di farlo con delle semplici bombolette e di fare dorata la parte di sopra, lasciare nero questo pezzo qui e di fare argentato queste parti sotto. Ovviamente poi qui andrò a praticare un foro per mettere l'interruttore di accensione e spegnimento. E poi basta, quindi qui sotto, come ho già detto, lascerò un vano che si apre, primo per poter cambiare la batteria e in secondo luogo per avere la porta USB per aggiornamenti. Quindi direi che, così senza troppe pretese, ovviamente questo qui è costato circa 3 euro dall'Erua Merlin, perché sono pezzi tipo da 90 centesimi l'uno, per cui potete sbizzarrirvi al reparto idraulica, trovate veramente quello che volete. Quindi, come avete visto, mi sembra decente, no? Mi sembra un'impugnatura di una spada laser anche piuttosto carina. Ovviamente, quando ci sarà poi il tubo, che oggettivamente è più... il tubo è più a un diametro inferiore a questo buco, per cui in qualche modo poi dovrò metterci uno spessore o qualche cosa per farlo reggere bene dentro, ma in generale, secondo me, farà la sua bellissima figura. Ovviamente, quando sarà colorata sarà ancora meglio, ma la parte del colore ve la mostrerò in un secondo momento, o probabilmente nell'ultimo video, dove andremo ad assemblare un po' tutto, perché qui, siccome è da fare con le bombolette, non è molto fattibile dentro casa e soprattutto in video, per cui questo lo vedrete già finito. Detto ciò, fatemi sapere nei commenti qui sotto se vi piace questa idea di fare l'elsa, diciamo l'impugnatura della spada in questo modo qui, e vi chiedo il solito pollice in su se vi è piaciuto il video, vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina così da non perdere nessuno dei miei prossimi video. A questo punto vi saluto e ci vediamo molto presto nei prossimi giorni. Ciao!